Sto cercando di guardare la cura, non so, non so, non so, non so. Tipo una volta al giorno, cerco solo Chiara Ferragni e poi cerco news, immagini, quelle cose lì solo. Ok, il primo, Chiara Ferragni, blog, ok, non è più un blog, è un inspirational platform adesso, però sì, è tutto iniziato dal blog, da Veblon Salad. Chiara Ferragni, Femi, al secondo posto, mamma mia, ma perché è una cosa recente. Secondo posto, Fedez, però va bene, ok. Terzo posto, scarpe, giustissimo, perché è un brand di scarpe, è anche quello molto bene. Instagram, sono appena stata nominata la più seguita in Italia su Instagram, quindi mi sembra molto, doveva essere un po' i primi posti, però va bene. A me non darebbe fastidio anche avere una telecamera che mi riprende tutto il tempo, perché sono molto trasparente, tutto quello che faccio è proprio la luce del sole, non ho proprio, non ci sono neanche quasi conversazioni di cui mi vergognerei a far vedere, che mi vergognerei a far vedere al mio pubblico, quindi anzi. Quinto, nuda, vabbè, io ho un rapporto molto, molto positivo con il mio corpo e mi piace molto la nudità se è fatta con un certo stile, cioè io farei nudi integrali a livello moda senza, senza particolari problemi. Chiara Ferragni è... Quanti sposti ti avete messo? Laureata? No, mancherò tre esami. Chiara Ferragni è... Fidanzata? Fidanzata sì, fidanzata in coppia sì, sì, in promessa sposa no, no, niente anelli, no, esatto. Chiara Ferragni è... Bella? Ma che carini! Boh, speriamo male perché non c'è un punto di domanda. Chiara Ferragni è italiana? Sì, italianissima, genitori italiani, mio papà di Cremona, mia mamma di origine siciliane. Chiara Ferragni è... Questo sarà brutto. Raccomandata. Boh, da chi però? Non so, no. Chiara Ferragni ha... Harvard, sì. Harvard ci ha chiamato per fare un business case study su London Salad due anni fa. Chiara Ferragni ha... Ripreso peso, sì, è vero. Meno male. Chiara Ferragni ha una figlia. Io dico di no, però non lo so, o non me ne sono accorta. No. Chiara Ferragni ha quanti anni? 29. 29 compiuti il 7 maggio. Chiara Ferragni ha... Tanti soldi. Boh, non sto male, tanti è relativo. Sto bene, sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti, diciamo. Chiara Ferragni che lavoro fa? È sempre difficile da dire, dico che sono un'imprenditrice digitale, faccio tanti lavori diversi. Chiara Ferragni che liceo ha fatto? Ho fatto il liceo classico Daniele Manin a Cremona. Chiara Ferragni che tatuaggi ha? Ne ho adesso tipo... Ho 23, ho 22, 23, ho 24, non ricordo. Però ne ho tantissimi. Sono tutti piccoli, questo è quello più grande che ho, che sono due leoni, che ho fatto a settembre. L'ultimo che ho fatto è Matilda, qua. Che cosa mangia? Mangio di tutto, mangio veramente in questo periodo proprio qualche si cosa. Piatto preferito? Pizza o pasta? Pasta al ragù di mia mamma. Chiara Ferragni che cosa le piace fare? Le piace passare tanto tempo con i suoi amici, con la famiglia, fidanzato, la propa cagnolina, viaggiare tanto, andare al cinema, andare a vedere mostre, fare shopping, andare a cavallo. Tantissime cose. Finito? Un saluto ai lotteri di fanpage, spero di avervi fatto un po' ridere con queste domande un po' strane. Grazie.